Musica Non lasciatevi ubriacare dalle illusioni, la realtà è concreta. Papa Francesco ha i giovani durante l'omelia della messa celebrata ieri nella Basilica di San Pietro. Dopo la recita dell'Angelus, il Santo Padre ha annunciato la data della canonizzazione di Carlo Acutis. Non siamo stati fatti per litigare, ma per amare. Così padre Francesco Mazzotta, rettore del Santuario del Santissimo Salvatore di Andrea, nel corso dell'omelia della messa celebrata ieri. A Molfetta alvia un percorso di riflessione sulle sette parole di Gesù Cristo sulla croce, l'iniziativa proposta dall'ufficio catechistico della Diocesi. Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne, tante le iniziative promosse anche nelle città di Andrea e Barletta. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Teledeon. Non lasciatevi ubriacare dalle illusioni, lo ha detto Papa Francesco, rivolgendosi ai giovani durante l'omelia della messa celebrata ieri nella Basilica di San Pietro, in occasione della ricorrenza diocesana della giornata mondiale della gioventù. La realtà è concreta, ha aggiunto il Santo Padre. Sentiamo. La paura delle condanne. Non preoccupatevi. Prima o poi le critiche e le accuse false cadono, e i valori superficiali che le sostengono si rivelano per quello che sono. Illusioni. Cari giovani e cari giovani, state attenti a non lasciarvi ubriacare dalle illusioni. Per favore, siate concreti. La realtà è concreta. State attenti alle illusioni. Ciò che resta, come Cristo ci insegna, è altro. Sono le opere dell'amore. Questo è ciò che rimane e che rende bella la vita. Il resto non conta. L'amore è concreto nelle opere. Perciò, vi ripeto, non abbiate paure dalla condanna del mondo. Continuate ad amare, ma ad amare alla luce del Signore, a dare la vita per aiutare gli altri. Preghiamo per la pace in Ucraina, Palestina, Israele, Libano e Sudan. È l'appello che Papa Francesco ha lanciato ieri in piazza San Pietro dopo la recita dell'Angelus. Il Santo Padre ha anche annunciato la data della canonizzazione di Carlo a Cutis. Sentiamo. Il 27 aprile prossimo, nel contesto del Giubileo delle Adolescenti, proclamerò santo il Beato Carlo a Cutis. Inoltre, informato dal Di Castello delle Cause dei Santi, che sta per concludersi positivamente, il leader del studio della causa del Pier Giorgio Frassati, o in animo di canonizzarlo il 3 agosto prossimo, durante il Giovelleo dei Giovani, dopo aver ottenuto il parere dei Cardenali. Un applauso ai prossimi nuovi Santi. E continuiamo a pregare per la martoriata Ucraina, che soffre tanto. Preghiamo per la Palestina, per Israele, il Libano, il Sudan. Chiediamo la pace. Non siamo stati fatti per litigare, ma per amare. Lo ha sottolineato padre Francesco Mazzotta, rettore del Santuario del Santissimo Salvatore di Andrea, nel corso dell'Omelia della Messa celebrata ieri. Ascoltiamo. Chi vuole davvero regnare per il bene, di fatto deve essere disposto a mettere la sua vita, la sua vita al servizio degli altri. E noi siamo qui, grazie al fatto che altri, prima di noi, hanno dato la loro vita per noi. I nostri genitori hanno dato la vita per noi. Ci hanno amato, ci hanno voluto bene. Non esisterebbe nessuno senza un atto d'amore, di fatto. E se proprio non ci hanno voluto bene loro, ci ha voluto bene il Padre Eterno, altrimenti non saremmo qua. Ce lo dovremmo ricordare tutti i giorni, questo fatto. Dovremmo ringraziare il Signore di questo dono enorme che abbiamo ricevuto. Dovremmo partire un giorno, la mattina, a dire, Signore ti ringrazio, Signore ti ringrazio della vita che mi dai. Aiutami a viverla, a viverla secondo la logica del tuo amore. Anche perché non siamo stati fatti per litigare, siamo fatti per amare, siamo fatti per rendere pieno un progetto. Quel progetto di Dio. Il progetto di Dio è fare di tutti noi un'unica famiglia. Questo è il progetto della salvezza. Dice il Signore ci ha voluto, ci ha amati per il suo regno di amore, di giustizia e di pace. Questo regno di cui parla la parola di Dio è il regno, è il luogo, è la condizione più che il luogo in cui tutti si sentono parte dell'unica famiglia. A Monfetta alvia un percorso di riflessione sulle sette parole di Gesù Cristo sulla croce, l'iniziativa proposta dall'Ufficio Catechistico della Diocesi. Come credenti non possiamo non fare riferimento a quelle parole che Gesù ha pronunciato sulla croce, che sono come un lascito, come un testamento spirituale che viene affidato a coloro che scelgono di seguire Gesù sulla via della croce, che è sulla via dell'amore, come dono e offerta fino alle estreme conseguenze, quindi al perdono verso i nemici. È un percorso di contemplazione, c'è nel Vangelo un invito a volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto. Bene, noi faremo proprio questo, un volgere lo sguardo da noi stessi, puntarlo sul Cristo, è Cristo crocifisso, e alla scuola del crocifisso imparare ad amare. Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, tante le iniziative promosse nel territorio. Abbiamo seguito alcune di quelle ad Andrea e a Barletta. Striscioni bianchi per indicare la purezza e frasi tinte di rosso per ricordare il colore del sangue versato dalle numerose vittime innocenti di violenza, che ancora oggi raccontano una cronaca quotidiana che sa più di bollettino di guerra. Ad Andrea, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il forum ricorda e rispetta insieme al Centro Antiviolenza Riscoprirsi, hanno organizzato semi di rinascita, vita e natura per sconfiggere la violenza. Il luogo scelto per l'iniziativa è simbolicamente rappresentativo, perché si tratta dell'Oasi Verde in via Ceruti, istituita in memoria di Vincenza Angrisano, la donna uccisa per mano di suo marito, esattamente un anno fa. Questo è chiaramente il luogo più emblematico che ci conduce a una sensibilizzazione, a una presa d'atto, a una consapevolezza di quanto sia aberrante una violenza sulle donne. Ma in genere tutte le violenze, anche da quelle verbali, da quelle comportamentali, chiaramente quello dell'omicidio è per eccellenza il più aberrante. Chiaramente l'amministrazione è impegnata in tutte quelle azioni che servono a costruire una società migliore, perché la pace, la toleranza, il rispetto si costruiscono dalle piccole cose. La si costruisce in famiglia, la si costruisce a scuola, la si costruisce nei rapporti umani e sociali. Chiaramente il 28 ricorre l'anniversario dell'omicidio per mano del marito di Enzan Grisano, per cui la nostra azione non può che continuare in perterrita, soprattutto a lavorare anche sui giovani, sulle nuove generazioni, sul futuro che spesse volte vivono una condizione di isolamento sociale che non fa altro che aumentare quelle che sono le dinamiche di isolamento e quindi di violenza. E quindi è giusto che i giovani acquisiscano la consapevolezza che una società migliore è possibile, la tolleranza e la convivenza civile sono fattori determinati, poi rispetto per le donne lo è ancora di più. In questo ambiente, dove circa un anno fa nasceva anche il primo bosco urbano della città, realizzato dal Forum Ambiente e Salute, ricorda rispetta, nell'occasione è stato piantumato un tiglio e sono state posizionate tre panchine rosse donate dal Rotary Club Andrea, dalla FIDAPA e dall'AMMI, l'associazione Mogli Medici Italiani. È la giornata che deve ricordare a tutti che la violenza contro le donne deve morire e deve invece rinascere il rispetto per le donne. Quanto di più bello che unire questa rinascita per il rispetto alla donna con la rinascita del verde pubblico. Ecco perché ci troviamo in questo contesto. Scuotere le coscienze e l'opinione pubblica e favorire un drastico cambiamento culturale necessario a contrastare ogni prevaricazione di genere. Per questi motivi, a Barletta, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ha avuto luogo la campagna di sensibilizzazione posto occupato. Piazza Aldomoro è stata allestita con sedie rosse, ognuna delle quali simbolo di chi dal 1 gennaio 2024 ha perso la vita per mano maschile. Prima che un uomo ne spezzasse l'esistenza, ciascuna di quelle donne occupava un posto nella società. A partecipare a questa iniziativa i giovani delle scuole superiori di Barletta. Allora, che cosa volete comunicare loro? Vogliamo comunicare loro un messaggio forte e importante. Il messaggio è che loro hanno il potere di cambiare questa cultura dal brutto odore del patriarcato e invece spalancare le porte a una cultura nuova, una cultura dal profumo del rispetto tra pari e tra generi. Si può parlare allora di educazione al rispetto, educazione ai sentimenti, educazione trasversale alle relazioni? Assolutamente sì. Noi come Osservatorio Giulia Rossella, Centro Antiviolenza di Barletta, siamo presenti in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Portiamo progetti in cui si parla di pari opportunità e di rispetto. Che cosa manca perché ci siano pari opportunità? Nonostante siamo arrivati nel, voglio dire, siamo in un'epoca in cui tutti lavorano, ci sono un sacco di famiglie dove i rapporti sono, diciamo, squilibrati. Nel senso che chi porta a casa i soldi è il marito e quindi la moglie deve sottostare a tutto quello che, voglio dire, sono le angherie. Ma questo non voglio generalizzare perché ci sono famiglie normalissime dove, voglio dire, si vive in completa armonia. Però, purtroppo, il problema economico è veramente, secondo me, importantissimo. Il messaggio forte è quello di no alla violenza di genere. L'amministrazione comunale intende sensibilizzare la cittadinanza su questo tema. Sappiamo dalle cronache nazionali che i casi di violenza di genere e di maltrattamento familiare sono in aumento ed è importante porre le basi per un cambio culturale. La sanzione componente dell'esperienza giuridica è stato questo il tema del 74esimo convegno nazionale di studi dell'Unione giuristi cattolici italiani che si è tenuto a foggia. Ascoltiamo le interviste. Qual è l'esperienza del giudice ordinario di fronte al problema della sanzione? Il problema della pena e della sua commisurazione è centrale perché lo afferma innanzitutto la Costituzione l'articolo 27 che a sua volta è da porre in correlazione con l'articolo 3 della carta fondamentale perché la pena prevista in astratto deve rispondere a principi fondamentali per uno stato di diritto che sono quelli del principio di legalità di proporzionalità ma anche di individualizzazione e lo sforzo maggiore che il giudice deve fare è quello di graduare nell'ambito dei limiti e dei massimi fissati dalla legge l'entità della pena ritenuta obiettivamente adeguata tenuto conto della tipologia del fatto commesso e della personalità del suo autore quindi richiede non soltanto un grande sforzo di razionalità e di competenza professionale nell'esercizio di questa discrezionalità che deve essere comprensibile per la persona che subisce la sanzione e per l'intera collettività ma richiede al giudice una grandissima attenzione all'uomo perché il processo non è fatto solo di tecnica professionale ma dalle capacità di comprendere fino in fondo quali sono le ragioni che hanno spinto una persona a commettere il reato ed avere sempre presente che la sanzione non deve rappresentare mai una vendetta dello Stato ma una risposta giusta e misurata proiettata alla rieducazione e al successivo reinserimento sociale della persona Presidente secondo lei il detenuto oggi vive un percorso di rieducazione abbiamo quasi un suicidio ogni due tre giorni nelle carceri italiane quindi il detenuto vive uno stato di sofferenza e soprattutto di privazione di speranza è questo su cui batte il Papa ridiamo speranza ma per ridare speranza sì provvedimenti di clemenza ma anche provvedimenti di reinserimento di rieducazione Eminenza che cosa significa essere giuristi cattolici significa tante cose tante cose belle perché significa essere veramente giuristi cioè ciascuno nella sua professione specifica ma dare a questa attività una spiritualità particolare che si potrebbe sintetizzare così mettere al centro la persona al via oggi a bitonto la seconda edizione di impariamo a mangiare sano progetto che mira a sensibilizzare i più piccoli all'importanza di un'alimentazione sana che valorizzi prodotti di stagione preferibilmente locali i dettagli nel servizio un progetto che guida i bambini alla scoperta dei prodotti tipici del territorio e delle tradizioni agricole locali a bitonto nel barese torna per la seconda edizione impariamo a mangiare sano quest'anno quest'anno l'iniziativa coinvolgerà 630 alunni delle classi seconde e terze di alcune scuole primarie della città 30 studenti in più rispetto alla prima edizione una progettualità cofinanziata da Regione Puglia e Comune di Bitonto una progettualità a cui il Comune crede tantissimo e crede soprattutto per la sensibilizzazione l'interessamento delle tante scolaresche a cui questo progetto è rivolto soprattutto per quanto riguarda gli stili di vita la dieta mediterranea sicuramente un deterrente a tutte quelle che sono le patologie che possono riscontrarsi nel corso della vita di ciascuno di noi quindi un ringraziamento particolare agli insegnanti alle scuole che si sono da subito interessate affinché potessimo riuscire in questa progettualità saranno quattro in totale le giornate in programma ciascuna focalizzata su un aspetto dell'alimentazione della cultura agricola spazio dunque ai cereali al pane agli ortaggi ma non solo si parte infatti dall'uva e dalla vendemmia con un laboratorio fissato per il 25 novembre ci saranno anche momenti dedicati a insegnanti e a genitori per rafforzare il ruolo educativo della famiglia nella promozione di sane abitudini alimentari tutti i laboratori didattici si svolgeranno tra i verdi dei paesaggi che circondano la masseria lama balice questa è la seconda la seconda replica quindi daremo ancora più importanza a quello che è rispetto per l'ambiente per gli alimenti e soprattutto andremo sullo specifico anche con i genitori e le maestre prepareremo tantissime ricette nuove quest'anno quindi siamo carichi non vediamo l'ora ci spostiamo ancora una volta a Molfetta in corso al Museo Diocesano la mostra dedicata a Salvatore Salvemini pittore di arte contemporanea sentiamo opere che raccontano la vita dei contadini dei pescatori e delle madri proletarie portando sulla tela la condizione sociale del sud Italia nel corso degli anni 60 Salvatore Salvemini abbraccia una ricerca pittorica di impegno civile affrontando tematiche come la lotta operaia e le battaglie ecologiche in un contesto di profonda crisi sociale e perdita di certezze l'arte contemporanea ritorna a vivere nelle sale del Museo Diocesano di Molfetta con un'esposizione dal titolo Salvatore Salvemini alle radici della pittura organizzata dagli eredi dell'artista e curata da Gaetano Centrone e Ignazio Gadaleta la retrospettiva su Salvatore Salvemini tra l'altro non è soltanto di interesse cittadino perché Salvatore Salvemini è stato un artista che tra gli anni 60 e 70 soprattutto è stato importante per l'arte per la cultura figurativa e visiva pugliese ma di tutto il sud Italia e quindi è una mostra che ripercorre le inquietudini i dubbi le crisi e le domande esistenziali di un artista che è andato ben oltre i confini cittadini la mostra allestita in occasione del centenario della nascita dell'artista è fruibile fino al 26 gennaio presenta oltre 30 opere che permettono di riscoprire Salvemini grande indagatore dell'animo umano Salvemini ci ha lasciato un'eredità importante in termini di etica morale ma soprattutto un insegnamento sulla pittura sui valori della pittura di sempre insieme eravamo amici per un quarto di secolo abbiamo sempre parlato dei valori assoluti della pittura il colore da quello della pittura veneta a tutta l'evoluzione fino al novecento e ad oggi nel corso della rassegna letteraria libri nel borgo antico a Bisceglia è stato presentato Galassia Stalking di Alessandro Miconi sentiamo un libro al giorno incontra oggi Alessandro Miconi autore del libro Galassia Stalking i casi di Stalking così come anche di violenza domestica non sono in diminuzione ma anzi sono sempre più preoccupanti come arginare il fenomeno cosa possiamo dire lei ha detto una cosa giusta cioè purtroppo sono in aumento è un delitto che sta assumendo delle proporzioni sempre più preoccupanti per cercare di arginare il fenomeno bisogna soprattutto conoscerlo perché conoscendo questo tipo di fenomeno che è molto complesso tra l'altro si può avere si può avere una marcia in più per poter cercare di sia prevenirlo che questa è una novità che è prevista nel libro cosa che normalmente gli autori non lo trattano la prevenzione del fenomeno Stalking invece lì è stato trattato anche quello e poi soprattutto la parte di contrasto al fenomeno sia da parte della vittima quindi lì ci sono tutti suggerimenti come fare per cercare di gestire al meglio questo tipo di problema e sia dal punto di vista istituzionale e lì nel libro sono descritte non solo gli strumenti giuridici ma anche tutta la rete che deve attivarsi su questo fenomeno quindi il servizio di assistenza sociale il servizio di psicologia eccetera tutto è descritto in modo completo per poter fornire alle vittime non solo ma anche alle forze dell'ordine agli avvocati agli operatori del diritto in generale il servizio sociale psicologico è uno strumento versatile e completo insomma e adesso invece con Emanuele Ricifari ideatore della collana di questo libro parliamo invece di quanto appunto queste pagine non siano soltanto dedicate alla vittima e quindi non si rivolgono soltanto alla vittima di stalking ma più in senso ampio giusto? come è strutturato questo libro? allora il merito del lavoro che ha fatto Alessandro il collega è quello di aver costruito un testo che non è per specialisti o non è solo per specialisti lui in sostanza ha raccolto le best practices così si dice adesso le migliori esperienze svolte in questi anni di pratica con migliaia di persone che sono state colpite da questo fenomeno e le ha poi tradotte in un testo di agile consultazione che non è soltanto un testo che descrive la normativa e le procedure da seguire ma descrive anche la costruzione dei casi quindi da una descrizione criminologica affronta la cosa dal punto di vista della vittima di quello che la vittima deve affrontare e quali sono i passaggi quindi è utile sia per chi è utile per la divulgazione ecco perché di questo tema è bene parlare perché sono tante le vite di persone uomini e donne non solo donne fu un'estate da stalker e il rischio è quello di pensare che lo stalker sia sempre lontano da noi in realtà no lo stalker è qualcuno che ci è molto vicino e stalker in certe condizioni psicologiche possono diventare noi stessi grazie ancora ad Emanuele Ricifari e grazie anche ad Alessandro Miconi autore del libro Galassia Stalking Franco Angeli editore e grazie anche a Libri nel Borgo Antico il festival letterario che ogni anno a Bisceglie ospita autori e lettori nell'ultimo weekend di agosto appuntamento al prossimo libro si chiude qui questa prima edizione del telegiornale di Teledeon vi ringrazio per l'attenzione vi auguro buon proseguimento di giornata a più tardi a più tardi a più tardi Grazie a tutti.